Bentornati alla nuova puntata della cura ricostituente. Oggi parleremo di un argomento che si sposa con il diritto, o meglio sulla tutela, con la tutela che garantisce il diritto riguarda una problematica molto gravosa e perniciosa per la collettività. Abbiamo ospite un avvocato che parlerà di questo problema che ora vi illustrerò, che è l'avvocato Ezio Bonanni. Ben arrivato Ezio, come stai? Bene, grazie del tuo interessamento per la problematica dell'amianto. Ora fammi presentare, Ezio Bonanni è il presidente dell'associazione senza fini di lucro che è l'ONA, osservatorio nazionale sull'amianto, che si occupa in modo incomiabile che applica quei principi deontologici in modo veritiero e pragmatico, in quanto la sua competenza di avvocato la utilizza per tutelare tutte quelle vittime dell'amianto e che hanno bisogno di un'assistenza legale. Quindi, come prima domanda, io ti porrei questo. Che cos'è l'ONA e di che cosa si occupa in modo specifico l'ONA? L'Ostervatorio nazionale per l'amianto. Prego. L'ONA è un'associazione senza fini di lucro che ha raccolto il grido di dolore delle vittime dell'amianto e dei loro familiari e successivamente ha invece esteso l'ambito di operatività ai fini della prevenzione primaria e cioè di ottenere la bonifica e quindi la rimozione dell'amianto e delle fibre nei luoghi di vita e di lavoro per evitare le esposizioni e quindi i danni alla salute. È un'associazione che collabora con tutte le istituzioni, quelle territoriali, quelle regionali, quelle nazionali e in ambito internazionale e assicura una tutela che non è soltanto giuridica e legale successiva magari al danno ma anche tecnica e medica al fine di prevenire i danni alla salute. Poi l'amianto è inteso come metafora con riferimento quindi alla tutela dell'ambiente di vita e di lavoro e allo stesso tempo della dignità della persona umana. La storia dell'amianto infatti è una storia paradigmatica che si lega alla sopraffazione che spesso si è verificata nel mondo del lavoro del più forte contro il più debole, del sacrificio della salute dei lavoratori e dei cittadini nell'interesse di pochi e quindi il sacrificio della dignità della persona umana al profitto. Ed è proprio questo che avendo notato nella provincia di Latina già nel gennaio 2000 un elevato numero di cittadini e lavoratori deceduti prematuramente perché esposti all'amianto abbiamo dato vita a dei comitanti poi costituiti in associazione che ha ora sede a Roma naturalmente e sedi in tutte le regioni d'Italia ed una estensione di attività che quindi va oltre quella prettamente giuridica o risarcitoria perché lavora per perseguire la finalità della prevenzione primaria rispetto a tutti i rischi, rischi cancerogeni estesi a tutti gli ambiti e settori applicando il principio di precauzione e c'è la necessità che preventivamente le sostanze immesse nel commercio o nella produzione siano testate per evitare che ci siano poi dei danni alla salute. Ezio consentimi, puoi fare un esempio per coloro che magari non hanno nemmeno idea che esista questo problema, quali sono le tipologie di lavoratori o di cittadini comuni che sono risultati vittime dell'amianto? Cioè in che contesto sono diventate vittime e dove era presente questo amianto? L'amianto purtroppo fino all'entrata in migore della legge 257 del 1992 che lo ha messo al bando ha trovato utilizzazione in tutti i settori principalmente in quello edile ma anche nei mezzi di trasporto dalle navi alle macchine agli stessi treni e quindi agli areoplani quindi una diffusività in molti ambiti ed in molti settori perfino nelle scuole e negli ospedali ed è per questo motivo che il numero dei malati e dei decessi è in continuo aumento ed è quindi necessario per coloro che sono stati esposti ad amianto o ad altri cancerogeni effettuare delle verifiche sulle loro condizioni di salute ed è quindi molto importante che ci sia una diagnosi precoce di un'eventuale lesione che può partire dal dall'asbestosi fino al tumore del polmone al mesotelioma della pleura del pericardio e del peritoneo della tunica vaginale del testicolo e perfino nello stomaco nel colon e quindi è una tipologia di malattie abbastanza gravi e purtroppo quasi sempre mortali ed ecco perché è indispensabile portare a termine la bonifica quindi l'azione legale è un'azione che deve essere preventiva cioè evitare le esposizioni presenti e future ed è quindi il ruolo dell'avvocato è un ruolo preventivo che deve agire nella situazione di pericolo di esposizione ecco allora io ti faccio questa domanda come può preventivamente un cittadino o un lavoratore essere consapevole di lavorare o di vivere in un ambiente in cui è presente l'amianto da quali elementi può dedurre ciò? Allora lo può dedurre innanzitutto consultando la nostra app amianto nella quale sono censiti molti siti poi naturalmente nei nostri organi di informazione come il giornale dell'amianto piuttosto che il giornale dell'ambiente e nei nostri siti istituzionali in ogni caso bisogna stare molto attenti agli immobili costruiti prima del 1992 ed in modo particolare dal 60 agli anni primi anni 60 al 92 dove ha avuto più largo utilizzo l'amianto e poi si vede dalle vecchie ondoline il famoso ethernet che è il cemento amianto poi nelle vecchie navi o nei vecchi mezzi di trasporto ferroviari naturalmente tutto ciò che risale ad un periodo specifico dai primi anni 60 al 1992 fermo che è stato utilizzato anche prima negli anni 40 50 ma in misura minore e quindi tutto ciò che è stato costruito in quel periodo purtroppo in gran parte contiene amianto. Ora ora qualora un cittadino venga a sapere che nella sua abitazione o nel posto dove lavora è presente l'amianto come deve intervenire a chi si deve rivolgere e soprattutto quali diritti può vantare riguardo alla soluzione di questo problema? Allora la domanda è specifica pertinente ed azzeccata ma innanzitutto occorre chiedere la bonifica dell'amianto presente questo dipende anche dal grado di aerodispersione e quindi dall'indice che è legato allo stato di manutenzione del materiale e dalla matrice quindi se c'è cemento amianto ed è ben manutenuto c'è uno scarso rilascio di fibre le quali possono essere in qualche modo inglobate attraverso l'utilizzo del liquido aggrappante quindi ci può essere anche una forma di bonifica e di messa in sicurezza con questa formula del liquido aggrappante oppure con il confinamento che consiste magari nel costruire una parete a fianco ad un'altra parete in cui c'è amianto ed evitare la dispersione delle fibre e in generale deve specialmente se si tratta dei luoghi di lavoro sollecitare la messa in sicurezza se è casa propria naturalmente all'interno rimuoverlo se è in un condominio sollecitare l'amministrazione di condominio se magari nel condominio accanto chiedere l'intervento della ASL purtroppo con la bonifica siamo molto indietro ecco scusa ti interrompo tu dici di intervenire ma mica può intervenire il proprietario dell'immobile dovrà riferirsi a una ditta specializzata per fare questo passaggio certamente spieghiamo questo passaggio o imporre o diciamo indurre se non imporre l'amministratore di condominio qualora ci sia un condominio che di riferirsi a una società specializzata in questo tipo di intervento bravissimo anche questo tuo intervento è molto pertinente e molto preciso quindi deve intervenire segnalandolo alla ASL e allo stesso tempo segnalarlo anche all'amministratore di condominio di quel condominio nel caso del condominio accanto se è confinante se nei luoghi di lavoro naturalmente chiedono alla rappresentante del lavoratore per la sicurezza ed in ogni caso allo stesso datore di lavoro alla dirigenza aziendale e qua è il nodo dolente perché in Italia siamo molti indietro quelle bonifiche e a 31 anni dall'entrata in vigore della legge 257 del 1992 solo una minima parte dell'amianto ahimè è stato bonificato e quindi continuano sono continuate e continuano purtroppo quelle esposizioni morbigene che daranno un effetto nei prossimi 20 30 40 e quindi continueranno a morire le persone a causa di questo amianto esattamente proprio perché c'è un certo ritardo nella bonifica ed è questo il ruolo centrale dell'avvocatura e quando ho iniziato nel gennaio 2000 ad occuparmi di questo problema c'era un unico precedente legato a Casale Monferrato e il rischio amianto era un rischio praticamente non conosciuto e ho iniziato dalla provincia di Latina per poi proseguire a Roma dove già nei primi anni 2000 ho curato la presenza di amianto nella fonte Appia nei cantieri Canados e in vari alti siti e nella Cotral quindi nei mezzi di trasporto pubblici della Cotral quindi anche le metropolitane questo è importante quindi tuttora tuttora in alcuni mezzi di trasporto pubblici sono presenti degli elementi di amianto di amianto certe volte anche nelle vecchie metropolitane scandaloso guarda io sono così mi sono così innamorato di questa causa da un punto di vista anche legale giuridico che d'accordo con te preannuncio a tutti i telespettatori che a settembre organizzeremo un convegno con il consiglio dell'ordine con l'ordine avvocati di Roma per promuovere questa battaglia che è una battaglia giuridica ma soprattutto una battaglia di civiltà per il sociale ma soprattutto è una battaglia anche di informazione perché pochi cittadini pochi cittadini sono informati e hanno contezza della situazione che riguarda la presenza dell'amianto nelle abitazioni nei posti di lavoro e nei mezzi di trasporto e noi dobbiamo informarli dobbiamo renderli e partecipi di un fenomeno che è molto più presente di quello che si possa immaginare e quindi faremo questo convegno che avrà dei risvolti giuridici ma anche informativi e sociali affinché tutta la cittadinanza sia consapevole dei danni che sono stati compiuti che continuano a essere reiterati che probabilmente ci saranno ulteriormente nei prossimi anni finché non ci sarà una bonifica radicale dell'amianto che è presente nella nostra società. Io ti ringrazio perché la tua intervista, la tua testimonianza non è solo una testimonianza giuridica ma è una testimonianza sociale di grande grande importanza che testimonia allo stesso tempo anche quanto l'avvocatura possa essere esercitata non per fini prettamente professionali ma anche per fini decisamente sociali e diciamo dando quel profilo di funzione costituzionale che l'avvocato dovrebbe avere e quindi ti ringrazio di questo tuo intervento e ti ringrazio soprattutto di questa tua missione perché è una missione per certi aspetti che nel mio piccolo cercherò di darti il mio contributo. Grazie Ezio grazie e diciamo che concetti in questa battuta a nome con il fatto che ti chiami Bonanni come la prima parte del mio cognome e ti ringrazio nuovamente a nome di tutti anche dei telespettatori di questa tua battaglia che sarà la nostra battaglia. Bene, grazie e a presto. Grazie alla prossima volta che continueremo a ritirare questo tema ma soprattutto a monitorare questo gravoso problema. Grazie a te. Grazie a te. Amici spero di aver fornito voi un servizio informativo importantissimo invito tutti voi a informarvi ulteriormente prendendo spunto da questa puntata perché il problema dell'amianto è molto più gravoso e problematico ma soprattutto è molto più presente nella nostra società più di quanto noi possiamo immaginare. Grazie della vostra attenzione e alla prossima puntata della cura ricostituente. Grazie a te.